Tu sei rimasto legato a qualcuno più degli altri? Beh, a Panelli. Tu hai lavorato a Paolo. A Paolo Panelli, che mi diceva sempre «Quand'è che venga a fare tuo padre?» Hai capito? E lui faceva la parte di mio padre in Pazza Famiglia, che mi ha fatto tante due serie per la RAI, Pazza Famiglia, lui faceva «Mio Suocero». E dopo ogni tanto mi diceva «Non posso, la mattina non posso!» «Non dormo!» E diceva «Non dormo!» Allora veniva il pomeriggio. Però era il troppo spiritoso. Troppo carino. Vittorio Gassman, io arrivavo sul set la mattina, andavo a salutare gli attori più grandi di me e anche più famosi, e quindi andavo a salutare Vittorio, Gustavo, la roulotte, ma lui aveva la porta aperta, mi affacciavo e lui era già vestito da principe alle otto del mattino. Dico «Ma Vittorio, ma già sei pronto?» Dice «Sì, così mi avvantaggio!»